Musica Eccoci benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 7 Gold, edizione che si apre con l'annuncio dato questa mattina dalla regione Emilia-Romagna per bocca del presidente Stefano Bonaccini. La pagina della cultura si chiama A Naked Love, pista teatrale che indaga il rapporto tra l'essere umano e il modo in cui vive gli aspetti più nascosti della propria intimità. Sei attori che mettono in scena dieci momenti dove si affronta il concetto di amore ma soprattutto della sua manifestazione corporale. Il corpo è quindi centrale sul palcoscenico, sia in forma concreta ma soprattutto come immagine, a cui il singolo dà più o meno importanza, ci si rispecchia, rinfranca il suo ego, lo deprime. È un'idea di Gabriele De Pasquale, attore, montatore cinematografico bolognese che grazie a questa sua ultima fatica ha ottenuto riconoscimenti al premio nazionale Castrovilla di Città della Cultura, al premio letterario nazionale Teatro Aurelio e al concorso nazionale Lo Strappo del Cielo di Carta. Menzioni attestate che hanno premiato l'originalità e l'innovazione dell'opera, come vedete in sovraimpressione, giovedì sera alle ore 21 a Bologna, al sostegno del Battiferro. Informazione regionale termina qua, arrivederci. Grazie.